E' legata ai suini selvatici e più in generale ai prodotti tipici della Val Gandino, la quinta edizione della Sagra del Cinghiale, in programma per domenica 15 settembre a Peia. Il Cinghiale è un vero e proprio simbolo del paese, al punto da campeggiare in bella mostra al centro dello stemma comunale. Quella di domenica sarà una sorta di movida che dalle 9 alle 22 lungo la centrale via Cazzenucchi proporrà per tutto il giorno banchi espositivi e attrazioni con degustazioni gratuite di salumi di cinghiale e vini bergamaschi a cura dei produttori e dei commercianti del posto. E' un grande evento non solo per il paese di Peia ma per tutta la Val Gandino e la Media Valle. Questa Sagra del Cinghiale è diventata una tradizione per Peia anche perché come voi sapete nel nostro stemma è rappresentato il cinghiale. Ecco perché è stata ideata la Sagra del Cinghiale che penso che qui nella zona e nella bergamasca sia un'unica festa col cinghiale. Mai come quest'anno i cinghiali stanno devastando la media valle seriana a cominciare dalla Val Gandino comprendendo tutti gli alpeggi di proprietà o di gestione della comunità montana che si affacciano sul lago di Endine. Quando sullo stemma chissà quanti centinaia di anni fa qui appunto dominavano i cinghiali, i pecore e i cinghiali purtroppo poi dopo questi cinghiali pian piano erano spariti adesso alcuni anni che sono tornati. Naturalmente per i pascoli, per i nostri contadini su nelle alte montagne hanno dei problemi, dei grossi problemi perché questi animali purtroppo distruggono un po' tutto ma purtroppo ci sono. Adesso non so la provincia li sta abbattendo qualcuno però purtroppo sarà difficile estinguerli e dobbiamo accettarli. Noi poi di Peia che siamo rappresentati anche nel nostro gonfalone dobbiamo accettarli così. Grazie a tutti.